Allora quella che vedete alle mie spalle si vede è il checkpoint che delimita i territori israeliani da quelli palestinesi quindi siamo entrati ufficialmente in Cisgiordania e vi mostro l'ingresso e questo non cambia assolutamente nulla ci si aggiorna adesso durante questo percorso quella che definita la west bank allora ragazzi stasera dormo qua nel nulla siamo sono in palestina deserto della giordania di là già dopo la prima collina se si riesce a vedere c'è un po di foschia ma si dovrebbe vedere già lì inizia la giordania qua è la west bank palestina direzione domani è quella raggiungiamo gerico e se non sbaglio gerico si dovrebbe trovare a 200 metri sotto il livello sotto il livello del mare quindi è una bella è una bella depressione e per il resto tutto bene ho fatto un giretto in un paesino qua vicino per fare la spesa un paese palestinese ho mangiato una pizzetta che non era niente male e niente dai io penso per stasera di aver finito con il video e ci sentiamo domani ciao ciao